Nel prossimo esercizio uniamo due concetti, i double stops e il tritono. Il tritono è comunemente chiamato l'intervallo del diavolo per la sua dissonanza. Questo è Do7 e questo è il tritono dentro a Do7. La coppia di note del tritono è il fulcro del suono degli accordi di settima che hanno largo utilizzo nel blues. Nel prossimo esercizio applichiamo questi concetti al blues in Do. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.